allora faccio un video allora questo praticamente è l'ingranaggio del dust che si è rotto vedete che era posizionato così e si è rotto io ne ho stampato uno a 3d non è perfettissimo magari terrà in eterno il grano cioè non il grano quella spina elastica in effetti è leggermente più lunga mi è venuta leggermente più lunga però è funzionale perché così si muove sale io se lo voglio far scendere lo faccio scendere poi freno e lui sta frenato mollo il freno lui va su rifreno e poi posso fare la micrometrica quindi diciamo che funziona abbastanza ok